e bentornati tutti quanti nella locanda oggi con un nuovo video e più esattente andiamo a vedere forse il mazzo migliore insieme al rogue ma esattamente è un mazzo addirittura migliore del rogue in quanto nel mirror match quindi rogue vs druido il druido va a vincere ma prima di questo io vi volevo annunciare che stasera verrà annunciato il mini set sono arrivati i primi spoiler sulla pagina ufficiale instagram di player stone quindi li vedremo tutti quanti in live assieme a partire dalle 18 sul canale viola link in descrizione vi aspetto numerosi così andremo a vedere le prime carte vi posso spoilerare che sembrerebbero carte b classi e quindi a noi piacciono sempre tantissimo le carte b classi in quanto si possono vedere il gioco in molti più mazze quindi tanta tanta roba sono super gasato e niente vi aspetto belli numerosi e andiamo avanti con invece il deck di oggi che è un deck come stavamo dicendo fortissimo proprio perché va a counterare il rogue il rogue possiamo dire che è più forte in tutti gli altri match up tranne contro druido ecco druido invece è molto più solido contro rogue con gli altri match up è buono ma in alcuni match up ad esempio warrior fa davvero tanta fatica comunque vediamo il deck il deck è un normalissimo dragon druid come funziona questo mazzo beh il mazzo funziona tendenzialmente che voi volete rampare come fate a rampare avete due carte principali il draghetto sguazzante e semplicemente le inner weight andando a rampare quindi riuscite ad accumulare più umana dell'avversario riuscire a fare giocate più forti prima dell'avversario qual è la giocata più forte che volete andare a fare è di sicuro il golen drago golen drago che se avrete tanti draghi in mano andrà su armare davvero una board incredibilmente forte ma voi mi direte beh un 34 comunque magari anche a turno 5 è vero la board empita di 34 non è che sia così forte è vero in alcuni spot ad esempio contro alcuni mazzi può bastare tranquillamente in altri spot magari potrebbe essere più complicato e quindi lo volete andare a a fare come andate a baffare questo golem ecco che abbiamo le spell da uno per poterlo fare giardini di azjara che vi permetteranno di dare più uno più uno a vostro drago e vi andrà a mettere un ulteriore baffo in fondo al mazzo che potete andare a pescare con forma acquatica in modo da poter rigiocare il baffo e quindi il vostro golem potrà essere un 5 6 magari potrà essere anche un 7 9 dipende a quanto lo volete andare a baffare il mio consiglio è quello di andare a giocare il golem il prima possibile in modo che l'avversario abbia meno risorse possibile per andarlo a trattare comunque quindi meglio a sto punto andare a su armare a turno 5 un golem 3 4 rispetto a turno 8 un golem 5 6 ecco questo è il mio suggerimento poi ovviamente cambiate e valutate voi da match up a match up altre combo che funzionano benissimo con il golem è di sicuro fi in quanto il golem suor ma tantissimo e fissi va debba fare tantissimo e quindi riuscite a giocarla quasi sempre a zero mana il resto delle carte vi servono per l'early game quindi abbiamo costrutto il cactus che è abbastanza buono amalgama che vi dà ulteriori draghi in mano astalor come prezzemolo draghetto d'ambra che è comunque un draghetto che vi aiuta a traddare è fondamentale avere tanti draghi in mano e questo vi sarà facile con delle carte come in alto nel cielo che vi va a pescare doppio drago il drago protodrago dei tempi perduti che vi dà un ulteriore dragho in mano e ovviamente la figlia dei fiori che vi fa pescare doppia carta da sei mana in su ecco che tutte le carte da sei mana in su sono draghi inoltre vi va a garantire anche il golem così sempre in mano tornando indietro abbiamo ulteriori draghi molto forti come il codaspina e la matrona del deserto che sono imprescindibili in questo deck a chiudere invece abbiamo marigos che vi permette di andare a pescare tutte quante le carte anche qua spot molto molto buono e va a chiudere la lista le strasa carta imprescindibile perché è vero che a volte andrete a vincere semplicemente i board ma spesso e volentieri cos'è che succede voi andate a mettere a board magari l'avversario non ve la riesce a contestare tutte voi spingete un bel po' di danni testa andate a continuare a mettere board ecco però non riuscite mai a chiudere l'avversario lo lasciate magari sempre a sei sette otto punti vita ecco che alle strasa serve per recuperare quel gap voi la giocate dalla mano andate a fare gli ultimi otto danni avete vinto il game ragazzi questa è la lista davvero una lista molto molto forte ora andiamo a fare qualche game io vi ricordo un bel mi piace, un'iscrizione e soprattutto la live di oggi con il nuovo mini set andiamo con le partite e andiamo subito con la prima partita di oggi e vediamo soprattutto chi andremo a trovare con questo druido druido che ovviamente non teme rivali essendo uno dei migliori mazzi e andiamo subito in medie contro rogue rogue è un matchup teoricamente positivo nulla di incredibilmente comunque da parte nostra però teoricamente sulla carta dovremmo stare sopra e cercheremo di farlo il vantaggio contro rogue è che noi possiamo rampare e quindi arrivare a swarmare molto prima che lui possa andarla a fare ovviamente nel caso in cui andasse a giocare troppo tempo ecco che per noi potrebbe risultare essere particolarmente difficile una situazione del genere peccato aver trovato il 4-5 già ora avrei preferito andarlo a pescare più tardi in quanto mi dava comunque un drago ratis non tanto per il drago in sé ma appunto per avere più draghe in mano e poter swarmare ancora di più possiamo passare qui il turno turno 2 sarà di sicuro il draghetto e poi evolutiamo un pochino la situazione l'avversario è un escavette normale vi direi nulla di particolare direi che possiamo andare a punto di draghetto passiamo il turno il prossimo turno potremmo fare anche spell da 1 più forma acquatica per andare a trovare qualcosa di interessante però valutiamo il segreto dell'hunter è andato a prendere va anche di serpinnus si vede che non ha una buona mano non lo so non so bene che turno andare a strutturare a questo punto figlia è molto buona anche perché ci dà l'opportunità di andare a trovare lo swarm ma il problema è che non abbiamo abbastanza draghi no? questa è la cosa più brutta che potremmo... che abbiamo no? direi comunque andiamo a spaccare il 3-2 va bene ha senso andare a fare hero power no? giochiamo attorno al segreto che va evocare un servitore e quindi direi che va bene così l'1-3 è ok prossimo turno andiamo di figlia ci andiamo a prendere il doppio drago e turno ancora dopo probabilmente andremo a swarmare sperando di andare a tobdiccare i più draghi possibili in questi due turni in modo da avere la board più forte possibile al momento questo è un ottion drago perché ci toglie dal pool lei ok l'importante era trovare il golem il golem che con tutta probabilità scenderà al prossimo turno sono 2-4-5 più lui se andiamo a pescare un drago sono un 6 quindi fulliamo completamente a board cosa sta facendo? breakdance sull'1-3 per andarlo a rifare pot perché è il 4-4 con tutta probabilità all'interno delle carte che aveva tolto insomma a questo punto perché andare a fare un non lo so un turno particolare da parte di opponent nulla a dire ha il 4-4 ah no il 4-3 ok forza giocate in questa maniera qui se lo va a spaccare il problema è che sa che noi ora andiamo a swarmare quindi dice ok me la gioco tutto per tutto perché sennò ho perso questa partita no? e quindi vuole andare di sotterrare già al massimo delle possibilità il 4-5 qua mi va a evocare tutto quanto una bella board andiamo a pushare 6 danni testa mostro errante non è un problema oddio 4-3 è molto forte prende 6-3 soprattutto se risparmia 6 danni però va bene la board è divastantemente forte il rogue non ha soluzione a una roba del genere vediamo se concederà oppure se vuole fare qualcosa scorpide deve trovare una soluzione da qui no? vediamo se la riuscirà a trovare incredibilmente oppure no sono 4-8-12-16-20-24-30 danni esatti il problema è io non commento quello che ho trovato però ok ok ovviamente ora non è più l'ital per ovvi motivi e si lascia lo spell damage tradiamo oppure no? questa è la vera domanda io sinceramente non credo di voler traddare sta roba no? oddio però se tradiamo come faccio ad andare a perdere? direi che è quasi impossibile andare a perdere se andiamo a traddare andiamo a fare il trade così possiamo andare a giocare maligos per andare a pescare andiamo a fare anche il 5-13 5-13 che ci permette di fare questo trade qua del genere 6 danni li portiamo sempre testa invece qui andiamo a traddare in modo da evitare cose e teoricamente questa borda è incounterabile per lui ovviamente è teoricamente perché abbiamo visto che prima ha fatto porcate vediamo gli abbiamo tolto anche lo scorpide quindi ora non può trovare ulteriori robe e dovrebbe essere teoricamente i gg per noi a meno che non trovi non lo so determinate cose da da chissà che cosa tuttavia come detto rogue non ha soluzioni no alla vostra borda ed è per questo che il matchup è estremamente positivo per il druido estremamente è positivo per il druido perché se parte con velarok può succedere di tutto ma ci portiamo a casa questa bella vittoria comunque andiamo con il secondo game e vediamo chi sarà appunto il nemico che ci si para davanti e soprattutto se riusciremo a gestirlo e rogue nuovamente ok non è un problema abbiamo visto come vincere con rogue ve lo rimostro almeno spero via tutta a mano fa letteralmente schifo come abbiamo detto noi vogliamo i servitori quelli buoni quelli belli che ci fanno rampare o comunque i peschini va bene il peschino lui è terribile lui fa schifo lui fa schifo tutto una mano terribile davvero l'unica cosa buona è il peschino che però comunque non è incredibilmente forte la spelda 1 mi preoccupa tantissimo perché vuol dire che ha velarok in mano se no non ha senso utilizzare quella spelda 1 ora probabilmente utilizzerà ok non dico nulla perché non ha senso quello che stavo dicendo so per dire utilizzerà una carta di un'altra classe in modo da attivare velarok ma va bene niente di tutto questo il che è fantastico anche perché noi a questo punto siamo riusciti ad andare a rampare il 2 e 3 qui è vero che si prende value trade ma va bene così noi possiamo andare a pescare ulteriori carte beh giocare qua al 3-4 andare a pescare comunque questo non è risultato molto forte andiamo a pescare doppio drago prossimo turno sarà 4-5 e possiamo andare semplicemente di 3-4 poi a swarmare ancora dopo eccolo qua velarok che arriva avevamo intuito non capisco perché abbia giocato a 3-2 sinceramente non ha avuto alcun senso il turno che è andato a fare velarok io lo vado a tradare non me ne frega niente di andare a scompare dopo velarok è il motivo per cui noi possiamo andare a perdere questa partita e quindi velarok merita la morte purtroppo ovviamente si va a riprendere in mano e questo è un grossissimo problema per noi mamma mia davvero incredibilmente broken quella carta andiamo a pescare doppio drago cercando il golem man il golem ok è arrivato il problema è che è davvero troppo debole il golem in questo spot perché è semplicemente un 3-4 non dico che si prende tutti quanti i trade ma poco ci manca ci va a testa con il 3-6 è davvero frustrante la carta troppo forte per essere reale 2 mana ma non è rimanenti comunque va di rapina interessante come turno perché non so se posso ottenere una grande value ora il 4-5 non è un problema prep è un problema perché riesce a tradarcelo si con aculio non può fare questo 3-6 perché è già morto il pezzo tanto sta 2-3 ci ha portato 28.000 danni va bene così si riprende in mano velaroc per l'ottava volta no tuttavia noi non è che possiamo fare tantissimo andiamo a questo punto a suormare il drago al massimo delle nostre capacità ha senso fare coin coin in astalor per fare per togliere altre 2 io non penso che abbia senso passiamo il turno vediamo se ha trovato qualche soluzione da velaroc per la nostra board nel caso in cui non la trovasse beh non siamo comunque messi in un brutto spot siamo è vero semplicemente 8 punti vita ma possiamo cambeccare tranquillamente peccato non aver trovato il drago con furto vitale flint cercano soluzione a questa board il problema è di sicuro se ottiene quella del mage il 2 mana 1 1 non è un problema qua fa semplicemente due danni non tradda praticamente nulla basta per aver trovato robe giocabili ti prego ha trovato ha trovato comunque deltare legge che è molto forte va di un po' di value trade anche di dragon arcano bellissimo probabilmente passerà qui ok allora tutto un pochino da rifare però è ok per ora la 4 5 ci fa pescare doppia carta il che è buono noi vogliamo fare il value trade value trade trade è quello che vogliamo andare a fare gli scuro velarock non rimarrà lì per molto anzi morirà subito andiamo a fare quindi a questo punto astalor 3 6 9 carte purtroppo non riusciamo a giocare tutto assieme il che non riesco ad attivare il finale di lei ma va bene comunque l'importante è poter avere phi phi andiamo a giocare immediatamente e andiamo a tornare anche 2 3 ma dopo non so riprendere in mano torniamo a 12 punti vita abbastanza safe se qui avesse modo di andare a tradare tutto noi comunque abbiamo un secondo drago che va a swarmare davvero tanto e qua comunque sono danni se non va a rimuovere l'avversario scusate vediamo un mana rimanente probabilmente curo 3 quella roba lì se vuole fare su di lui esattamente ci va a tradare un 3 1 va a giocare anche una 3 4 ok comunque turno abbastanza passivo noi possiamo andare a questo punto a giocare astalor io 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 giocarei anche il draghetto lì per andare a tradare continuiamo a spingere danni testa e cerchiamo di chiudere questa partita il prima possibile lasciamo semplicemente l'avversario a 17 punti vita e vediamo ora se troverà una soluzione ne abbiamo 8 danni prossimo mamma mia trovo ovviamente il di satterra più forte che poteste trovare comunque lì era sempre giusto il trade perché al massimo poteva fare shadow step breakdance lo rigiocava e avrebbe ottenuto molto più valore e soprattutto ora avrebbe lo scorpida in mano l'unica punizione a noi era il crollo però vabbè intendo ha trovato crollo forte lui non ci possiamo fare nulla abbiamo comunque lui che va a suormare davvero tanto al prossimo turno e che buono ok 3-6 è senz'altro molto forte questa che ci cura di molto questo è stato il vantaggio qui non è l'ital per ovvi motivi ha senso giocare astalor astalor ha senso perché noi andiamo a settare l'ital no perché lo portiamo a 12 lo portiamo a 3 off no way che riesce a vincere dovevo giocare prima la spedda 1 a dire vero qua errore almeno ci avevo 9-9 lui comunque busciamo questi danni testa 3 off prossimo turno con lei abbiamo sempre vinto non dovrebbe avere grandi modi di poter cambiare questa partita a meno che la scorbide non trovi una removal è una cura ecco se dovesse andare a trovare una removal una mass removal per la nostra board è una cura man io prendo il gioco ti applaudo e dico man sei il giocatore più forte di questo mondo perché non so non saprei cosa fare non saprei ti giuro cosa fare d'altronde sarebbe avrebbe dell'incredibile scalaveris non dovrebbe essere un grosso problema è vero c'è il 2-3 che mi spacca l'8-8 però l'importante è che non si curi e noi soprattutto abbiamo non ci credo ma no 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 è comunque di tal no non ci sto credendo cosa ha trovato mamma mia ragazzi mamma mia ragazzi cosa stava per venire giù il mondo stava per venire si trovava da qua lì quello con veleno o era alla fine era la fine del gioco io ve lo ve lo avrei detto va buono secondo game andato mamma mia che remata rogue con velarok davvero fastidioso capite la differenza tra aver velarok e no proprio quando hanno velarok bisogna faticare tantissimo comunque secondo game ci siamo portati a casa andiamo con il terzo e l'ultimo game di oggi a questo punto la mano fa schifo andiamo a cambiare tutto giochiamo contro di k tra l'altro tra l'altro fun fact io questo video l'avevo già registrato solo che mi avevano dimenticato di far partire a recca avevo fatto tre bellissime vittorie consecutive tra l'altro con classi anche diverse astalor qui io credo che ci andiamo a prendere astalor sempre anche perché è un vlog quindi sarà una partita lunga il 2-6 addirittura wow beh mi regala un 5-4 che dire noi ci accontentiamo a questo punto andiamo a traldarlo semplicemente andiamo a pushare un dannino testa con astalor e passiamo il turno prossimo turno andiamo a pescare doppio drago 3-4 into astalor e via zero power sul 5-2 va bene 5 danni di partono a lui troviamo anche secondo astalor che ci piace qua come detto ne facciamo 6 e probabilmente andrà nuovamente zero power per traldare quel 5-1 ottimo turno comunque super lento da parte sua il che a noi fa abbastanza piacere noi vogliamo andare 3-3-4 in questa circostanza 3-4 in tu secondo 3-4 potrebbe essere non male 2-2 hero power o astalor non lo so vediamo ora sta pensando se giocare qualcos'altro alla fine ci ripensa ma io credo di voler mettere sempre il più vol possibile contro blood il 3-3 fa comunque danni possiamo giocare l'astalor e passiamo il turno tanti astalor ovunque astalor in campo astalor in campo astalor in mano astalor in mano ci fa 6 danni il che va bene perché la 4-5 ora è più protetta che mai non andiamo a giocare a 3-4 per il golem fi e golem dammi golem dammi golem ok ottimo il problema è che contro blood il golem non è che abbia un grandissimo spot anzi è abbastanza fragile però d'altro non è che possiamo fare moltissimo insegnante è ok la possiamo trovare comunque col 6-5 lo svantaggio è che non abbiamo la board giusta per mettere il golem perché è già bella fillata e contro blood non possiamo sprecare il risorso il problema è che non riesce a mettere una pressione abbastanza elevata per riuscire ad andare a vincere questa è la cosa più brutta inoltre a dare a 4-4 possiamo andare a giocare anche il nagino passiamo tutti i guano qui da ogni testa ha senso tradare il nagino non credo che abbia senso passiamo il turno prossimo turno probabilmente sarà doppio astalor mastino è forte ma nulla di incredibile devo dire anche perché astalor qua glielo va a tradare il che è un'ottima cosa possiamo andare a giocare anche quello a 5 andiamo a giocare anche la spell 1 era meglio fare in verità spell 1 prima però va bene non credo che cambi molto l'1-2 ci possiamo anche prendere tranquillamente spingiamo ulteriori danni testa e passiamo il turno vediamo se ha effettivamente una removal per questa board che è molto molto buona esplosione calaverica è di sicuro una removal molto forte noi possiamo andare a questo punto di draghi 3-4 che lo forziamo a giocare con quei risorse vogliamo andare a giocare anche Fii ho un commitment troppo grande io credo che sia un commitment troppo grande il 3-3 credo che vada abbastanza bene per pushare ulteriori danni qui siamo semplicemente un off ed è una cosa che no in verità più di un off però va bene andiamo a fare astalor possiamo andare a fare anche la oddio era molto meglio farla 4-12 mi avevo sbagliato quindi era molto meglio fare la 4-12 subito per fare il trade possiamo andare anche di credo andiamo a prendere un'altra cosa peccato il drago era molto buono qui ho missato probabilmente l'order era giusto 4-12 prima tutti tranne lei va bene disintegrazione va bene abbiamo vinto GG vabbè avremmo vinto lo stesso probabilmente no in verità lui ci andava a pescare la cosa però no non riuscivamo a vincere lo stesso a dire è vero però vabbè abbiamo 8 danni quindi GG lo stesso stavo pensando lei facciamo lei coin coin avevamo spell da 1 spell da 1 però eravamo sempre un'op perché non riuscivamo a mettere il hero power vabbè ragazzi che dire terza vittoria con questo druido druido classe completamente rotta sbagliata fortissima avete visto come va a distruggere il rogue ma come distrugge anche le altre classi io ho già registrato questo video quindi avevo fatto altre tre vittorie ma lasciamo stare druido che vabbè non merita presentazioni di sicuro fino al mini set all'uscita del mini set che dovrà avvenire come vi ricordo martedì potete giocare questo druido di sicuro arrivata legend senza il benchiminico sforzo ragazzi direi che è davvero tutto io vi ricordo che noi ci vediamo stasera alle 18 in live sul canale viola perché appunto ci sarà l'uscita in mini set quindi le nuove carte parleremo tutte le novità eccetera eccetera quindi vi aspetto belli numerosi vi ricordo un bel commento un bel mi piace e soprattutto un'iscrizione ciao ciao ciao